E' stato fermato nel corso di servizi di controllo volti al contrasto della criminalità eseguiti dai carabinieri del comando provinciale in via Pier Santi Mattarella a bordo di un'autovettura intestata ad un cittadino extracomunitario e alle domande circa la sua presenza a Caltanissetta si è giustificato con la scusa di portare alcuni cuscini a coperte ad un amico. I militari insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare rinvenendo in effetti due cuscini che però nascondevano al loro interno tre involucri sigillati contenenti poco meno di un chilo e mezzo di marijuana. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e l'uomo unganese di 51 anni residente a Catania con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e accompagnato al carcere di Caltanissetta. L'arresto è stato convalidato.